Un caro saluto da Francesco Samani Oggi vediamo altre regole sulla logica C'è altri requisiti sulla logica In particolare quelli che mi avete mandato voi Allora, il primo in realtà non è stato risolto da me Il primo a mio avviso è uno dei più complessi E vanno fatti i complimenti a Caterina Allora, per brevità io vi metto solo la successione Quindi è un test Oddio, non funziona Ogni tanto lagga la testiera, la tavoletta grafica Allora devo staccarla e riconnetterla Allora, test logici relativi al concorso ordinario Allora, per brevità io vi inserirò solo la successione Che vi è da completare E la traccia ve la leggo oralmente Se ve la volete scrivere perché l'ordine è molto importante Quindi vi consiglio di avere proprio dei quaderni Di preparazione al concorso Oltre che dei libri E tutto quello che vi scrivete Vi consiglio di appuntarlo Cioè di scriverlo proprio fisicamente La memoria funziona meglio Cioè la memoria Ha maggiori capacità Se quello che viene ascoltato Viene anche magari ripetuto E magari anche riscritto Quindi Il testo dice questo Ministero dell'interno Domanda 9 di 50 Ovviamente sono casuali Quindi 9 di 50 Da adesso in poi Le altre successioni Non vi dirò A che numero corrispondono Allora, utilizzando l'alfabeto italiano Completare correttamente La seguente successione di lettere Utilizzando l'alfabeto italiano E la successione è N, punto e virgola O, punto e virgola M, punto e virgola O P, punto e virgola N, punto e virgola Punto e virgola, punto e virgola Punto e virgola, punto e virgola Da quattro opzioni B, C, D La prima è l'opzione P, Q La seconda è l'opzione O, M La terza è l'opzione I, G La quarta è l'opzione Q, H Allora, la soluzione è abbastanza contorta Però, essenzialmente Questa successione esegue questa regola Che si reitera Quindi è una successione quaternaria Più 1, meno 2 Più 2, più 1 E poi Anzi, scusate, ternaria E poi si ripete Meno 2, più 2 Casomai ve ne metto un'altra ternaria Perché sono forse le più toste da risolvere Più 1, meno 2, più 2 Allora vediamo N, vado avanti Quindi N, più 1 Ottengo O Vado indietro di 2 O, N, M Vado avanti di 2 M, N, O Quindi, qui ho aggiunto più 1 Qui sono andato indietro di 2 Considerando l'ordine dell'alfabeto italiano E qui ho aggiunto più 2 Quindi, analogamente, continua così O più 1 Ottengo P Vado indietro di 2 Ottengo N Riaumento di 2 Ottengo di nuovo P Aumento di 1 Riottengo Q E quindi, ovviamente, la risposta esatta è P e Q Quindi, questo si ripete E in realtà, a noi, si ferma proprio qui Quindi, diciamo che questa successione abbastanza complessa È stata risolta da uno di voi Andiamo avanti Alta traccia Risolvere Mi sto focalizzando in questo video sulle successioni Perché sono, forse, quegli esercizi relativi alle capacità logiche Che più possono dare delle problematiche Se non ci si esercita abbastanza Perché, in linea di massima Qualsiasi sia la nostra laurea Diciamo che non è che abbiamo fatto chissà quanti esami su questi argomenti qui Quindi, su questi argomenti, essenzialmente, bisogna esercitarci Ci dobbiamo esercitare Vi dovete esercitare, soprattutto voi Come se dovessimo dare un esame di logica Quindi, a mio avviso, chi si vittimizza O chi si butta troppo giù e dice Non ce la farò mai Sbaglia E sbaglia tanto Perché l'unico modo per fare un passettino avanti Ed avere una possibilità in più È quella di lavorare e mettersi all'opera Quindi, mi raccomando Questo è anche, diciamo, l'obiettivo del mio canale E dei video che faccio Quindi, di fronte alle difficoltà Non fermiamoci, ma lavoriamo Anche io ne ho tante difficoltà E ve ne dico Desidero condividere con voi Quella che attualmente un pochettino mi butta giù Cioè, avrei avuto la possibilità Di guadagnare dei soldi Lavorando per case editrici Che pubblicano libri per concorsi E ho rifiutato perché Anche in alcuni testi ci sono degli errori E, diciamo, per sentirmi libero al 100% Ho detto, va bene, dai Voglio pensare a qualcosa di alternativo E ho rinunciato a tutti coloro Che mi hanno scritto in privato E mi hanno chiesto di fare lezioni telematiche Video lezioni Tra l'altro, a causa Covid Io, Google Meet l'ho usato tantissimo Non ho problemi a usare Skype Zoom, piuttosto che Zoom Quindi avrei potuto anche facilmente dire di sì Però mi sono voluto tenere del tempo libero E non nego che parte del mio tempo Se ne va per creare questi video Mi dispiace che questi video Che sono gratuiti E a mio avviso sono molto utili Per la preparazione a concorso Vengono poco seguiti Cioè, io lo so Perché ci sono passato come puoi Se, ad esempio Io faccio anche parte del sindacato CGL Se la CGL mi emana un corso di 600 euro Per prepararmi a concorso Diciamo che Anche se poi magari mi insegnano poco Io tenderò ad andarci Perché dico, vabbè, ormai ho speso dei soldi Non li voglio buttare dal cassetto Viceversa Accade Ripeto Questa fenomenologia Accade anche a me È proprio una cosa però Che mi dispiace vivere in prima persona Viceversa Se io ho la possibilità Di Avere un servizio gratuito Mi viene arrivato un servizio gratuito Magari anche di un valore più alto Però solo per il fatto che sia gratuito Magari Io so che sta lì Allora gli do meno importanza E magari non penso al potenziale perso O al valore perso Che Per non aver usufruito di un servizio Allora ecco Io penso che Nella vita Ognuno di noi Deve riuscire a comprendere Che Anche se abbiamo avuto Un'educazione Che segue In maniera molto fedele L'economia Cioè io do Il valore alle cose In funzione Del valore economico A mio avviso ecco Dobbiamo Riuscire Tutti quanti insieme Anche con i commenti Anche con i gesti Che facciamo quotidianamente A invertire questo ciclo Cioè Non è che Quello che costa di più È In maniera assolutistica Migliore E non è vero Che nella vita Non ci sono tante opportunità Addirittura Anche gratuite Allora Siccome io Voglio credere in questo Essenzialmente Io sto Facendo Questi video A titolo gratuito E rinuncio A Magari Vedermi un bel film O leggermi un bel libro Perché Finora ho lavorato Anch'io come voi E Rinuncio Insomma A queste cose Per fare il video Questo video Che poi Rigorosamente Anche qui Voglio Seguire Insomma Un pochettino Quello che È La mia Natura Non mi piace Insomma Il Il fatto Di creare Un video E poi Tagliarlo tutto Per farlo uscire In maniera Perfetta Mi piace un pochettino Di più Il pensiero Che Se Commetto degli errori Me ne prendo La piena responsabilità E magari Creò Una lezione Più realistica Perché Quando noi Quando Insegneremo Tutte le volte Che insegneremo Non è che Magari Facciamo un gesto Sbagliato Ma anche nella vita Anche nelle relazioni Umani Allora diciamo Vabbè Adesso Riavvolgiamo il nastro Cancelliamo Quello che abbiamo fatto Passiamo avanti Allora Lo posso capire Nella cinematografia Ovviamente Lo posso capire Per chi fa Lo youtuber Come mestiere Però Nella cultura E nella didattica Mi piace Di più Un'idea Di autenticità Che sia legata Al fatto Di Creare Materiali Fedeli Nei quali Insomma Si è Si è Esposti Perché non Si è indiretta Essenzialmente Va bene Queste cose Ovviamente Possono anche Non interessare Quindi Le mie opinioni Personali Cerco di Tenermele Il più possibile Per me E ogni tanto Nei video Che Vi mando Do anche Un piccolo Spazio A qualche Excursus Mentale Relativamente Alla Ai miei Pensieri Liberi Allora Ritorniamo Ai quiz Quindi Adesso abbiamo Un'altra serie Cambiamo colore Da così più divertente 7 Punto e virgola 13 Punto e virgola Punto interrogativo Punto e virgola 22 Punto e virgola 25 25 E le risposte Sono 21 15 18 20 Allora 21 15 18 20 D E 20 Benissimo Allora Allora In questo caso Sappiamo che La successione È una successione Crescente I numeri Sono sempre crescenti Vediamo quanto spazio intercorre Tra 7 E 13 E di intercorre 6 Vediamo quanto spazio intercorre Tra 22 E 25 Intercorre Esattamente 3 Allora possiamo pensare Che è una successione Ad incrementi Degrescenti Ossia 7 Più 13 Più 6 13 Quindi 7 Più 6 13 Poi sarà 13 Più 5 E otterremo 18 Poi 18 Più 4 Terremo 22 22 Più 3 E otteniamo 25 Quindi Il dato mancante È il 18 La risposta giusta È la C Quindi come vedete È una successione Crescente Con incrementi Decrescenti Benissimo Vi avevo detto Che avrei Messo anche Un'altra successione Di tipo Diciamo Legata a delle terne E in questo caso Abbiamo Che forse sono le più complesse 41 33 8 Punto interrogativo 32 26 E in questo caso Le risposte sono 0 64 58 58 E 11 Allora andiamo a vedere Qual è Il La soluzione Allora proviamo Noi vediamo che È Da qui A qui È decrescente Poi Sembra che Ci risia un picco E sia di nuovo Decrescente Allora dobbiamo Pensare Che ci sarà Che questo numero È una combinazione In aree lineare Dei primi numeri Dei primi due In particolare 41 41 Meno 33 Mi dà Esattamente 8 Allora io devo trovare Quel numero Meno 32 Che mi dà 26 Quindi 32 più 26 È 58 58 Meno 32 Uguale 26 Eccolo qui Quindi essenzialmente Anche qui C'è Una Un legame Ternario Ed essenzialmente Il terzo numero Si ottiene È una combinazione Lineare Dei primi due E In maniera più specifica È una sottrazione Dei primi due Diciamo che Essenzialmente Oggi Con oggi abbiamo Finito Mettiamola Una scritta Di end Abbiamo finito Nel senso Che Abbiamo visto Dei quiz Abbastanza complessi E A me Piacerebbe Anche Rimandarvi Un altro concetto Prima Di chiudere Questo video Questa volta Non vi chiedo like Non vi chiedo niente Fate come vi pare Non vi chiedo di condividere O Diciamo Sarete voi In Buona parte Anche Quelli che decideranno Il destino Di questo canale E Non Fate Cioè Non Diventiamo Delle macchine Dei robot Che fanno Solo Ed esclusivamente Esercizi E diciamo Vabbè Oggi ne ho fatti 100 Oggi ne ho fatti 200 Uffa Mi sto stancando Questo professore Parla troppo Cioè Io parlo troppo E A mio avviso Dobbiamo Sempre Cercare Di Porci Delle domande Porci Dei dubbi Anche che possono essere O sembrare De contestualizzati Perché Se ci Fissiamo Focalizziamo Troppo All'interno Di un determinato Target Perdiamo La Consapevolezza E la visione D'insieme Quindi io Vi invito Sempre Prendo spunto Nel dirvi Questa cosa Da un commento Che ho letto Relativo Ad un mio video Che a mio avviso Era fondamentale Per capire Come impostare Una lezione E quindi Anche per capire Come rispondere Ad un'eventuale Domanda Su Scrivere Un'Uda Relativamente A un argomento E Una Persona di voi Ha commentato Vabbè Ma che serve Questo Insomma Io parlavo Di come Realizzare Una lezione E la risposta È stata Ma a che mi serve Cioè Essenzialmente Io noto Che purtroppo Alcuni di voi Secondo me Saranno quelli Che forse Rischieranno Di non andare bene O forse Addirittura La cosa peggiore È di superare Il concorso E poi Non essere Ben insegnanti Si focalizzano Solo sull'obiettivo E non Danno importanza Al cammino Per raggiungere Tale obiettivo Cioè A mio viso È importante Considerare Che noi Saremo Prima di tutto Degli insegnanti E quindi Sapere Come impostare Una lezione Sapere Quelle cose Basilari Che a mio avviso Sono utili Anche per il concorso Però Sono utili Soprattutto Come nostra Ricchezza Personale Come strumento Di vita Di professione A mio avviso Queste cose Sono importanti Ovviamente Io sono contento Che ci siano Pensieri Che possono Essere diversi Nei miei E a me piace Anche molto Confrontarmi Quindi Relativamente A quello che ho detto Ci terrei A sapere la vostra Con questo Vi saluto Vi auguro Buono studio E buona continuazione Di giornata Ciao a tutti Ciao a tutti